uscito dal cunicolo in parte seconda dopo avere detto dietro a tutti gli dèi il dio cavinale soprattutto il problema è che aderrate i coglioni però guardo di verità sono contento che coglioni diceva lo che qui dicevo la rata di massi che sono però cosa volevo dire con questo che comunque sono benissimo uscite con degli amici fantastici senti l'hai risalito sto posto sto dicendo luca con chi parla di nuovo ma è lo stesso si si è bello questo posto però proprio una meraviglia ma è bello proprio invece comunque tornando a noi è stata una l'uscita giovedì c'è 14 peroni siamo solo noi e siamo solo noi ragazzi è caduto cioè te hai buttato il sacco lì